Abbiamo deciso di prenderci un periodo di pausa, sospendendo la nostra programmazione. Lo ha dichiarato Roberto Maggialetti, titolare della società che gestisce il DF Disco di Biceglie, dove domenica scorsa, all'alba, è stato accoltellato il 26enne barese ricoverato all'ospedale Vittorio Emanuele II ed in via di guarigione. L'aggressore è ancora ricercato dai carabinieri. Siamo sollevati dalla notizia che le condizioni di Alessio siano in netto miglioramento, ha aggiunto Maggialetti, che poi ha spiegato i motivi della sospensione delle attività, ovvero per permettere lo svolgimento sereno delle indagini e alle autorità competenti nella forte speranza, ha sottolineato, che presto il criminale venga arrestato e per attrezzare il locale con le più moderne tecnologie di sicurezza, dai metal detector ad un avanzato impianto di videosorveglianza molto più capillare. In questa dichiarazione si può leggere un'implicita ammissione del fatto che gli impianti di videosorveglianza presenti nei luoghi in cui è avvenuto l'alcoltellamento non siano stati in grado di agevolare le indagini. Roberto Maggialetti è conscio dell'importanza della scelta fatta. Si tratta dell'ennesimo investimento che la struttura dovrà sopportare dopo il lungo periodo di inattività passato, ha spiegato il titolare del DF Disco. Ma non possiamo esimerci da fare tutto il possibile per allontanare la violenza dal nostro mondo. Poi, la nota più amara, siamo consapevoli di lasciare a casa gli oltre 100 dipendenti già fermi da due anni, ma ci sembra questa la via più opportuna di procedere, nel rispetto del nostro pubblico che vogliamo tutelare in ogni modo e far divertire in sicurezza. Infine Maggialetti ribadisce un concetto già annunciato a poche ore dall'aggressione nella discoteca biscelliese. La violenza non ci appartiene e stiamo mettendo in atto tutto ciò che è nelle nostre possibilità per dimostrarlo.